Il maiale da sempre offre all'uomo degli alimenti unici nella loro qualità, sia come valore nutrizionale che come anche sapore. Sono alimenti che contengono proteine ad elevato valore biologico, vitamine, sali minerali e anche il grasso, che negli ultimi anni è andato sempre diminuendo, ha dei valori nutrizionali particolari per la sua composizione. Gli alimenti carnei sono sempre stati talmente importanti per l'alimentazione umana che quando se ne aveva a disposizione si cercava anche di conservarli per i tempi di magra. Ecco perché l'uomo ha messo a punto tutta quella varietà di salumi di cui oggi disponiamo e questi salumi sono un po' cresciuti con noi. Man mano che c'era necessità sono diventati anche con poco grasso, con poco sodio e sempre più adeguati alle nostre esigenze. Una fettina di prosciutto dà sapore a qualsiasi pane conferendo però dei valori importanti. Il prosciutto è magro, oggi lo fanno con sempre meno sale e soprattutto la qualità del grasso. Sono grassi bono insaturi, saturi e polo insaturi miscelati bene per essere quasi protettivi per il nostro organismo. Del maiale si utilizza tutto e noi abbiamo dei prodotti importanti della nostra tradizione quali tutti i salami e i cotti come la mortadella che hanno delle caratteristiche particolari sempre non solo legate al sapore e alla tradizione ma anche a un valore nutrizionale che si è andato aggiornando nei tempi. I salami sono sempre più magri e con una flora microbica particolare che quasi diventano degli alimenti funzionali. La mortadella, la mortadella c'ha poco sale ed è anche un alimento gotto quindi dà una sicurezza alimentare che è al di sopra di tutti gli altri prodotti. Grazie.